Due giorni con Sport in Festa a Clusone, iniziativa organizzata dalla Polisportiva Oratorio Clusone. Che cosa succederà domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio? Allora sono due giorni appunto in cui lo sport sarà in festa in oratorio. Tre settori della Polisportiva, quindi il calcio, la pallavolo e il basket, si troveranno per organizzare i tornei. Quindi in oratorio ci sarà il calcio, la pallavolo, il basket svolgerà il proprio torneo presso la palestra del patronato. E in oratorio comunque ci sarà il ritrovo di tutti i ragazzi partecipanti ai tornei con i genitori, fratelli e tifosi al seguito. I numeri di questa manifestazione sono sicuramente importanti perché calcoliamo per le due giornate almeno una quindicina di squadre ogni giornata. Quindi almeno 200 atleti più altre persone che saranno al seguito delle squadre. Qual è il programma della due giorni? Allora le due giornate inizieranno la mattina con le prime partite. Lunedì 1 maggio tra l'altro ci sarà la possibilità di partecipare alla Santa Messa in oratorio presso il teatro. Le partite della mattina, poi ci sarà la sosta per il pranzo, le squadre si alterneranno, visto che i numeri importanti si alterneranno durante il pranzo. E nel pomeriggio il proseguimento dei tornei con le finali che andranno a finire più o meno verso le 18, 18.30. A quel punto ci saranno le premiazioni per tutte le squadre e tutti i ragazzi che hanno partecipato. Ricordiamo che il torneo è stato organizzato d'invito, quindi le squadre sono state invitate e vengono da tutta la provincia, quindi da Bergamo e anche dintorni. Qual è il senso di questa iniziativa? Allora questa iniziativa che da tre anni che viene organizzata è nata esattamente tre anni fa per volere di alcuni genitori i quali hanno voluto a tutti i costi organizzare questa festa e per coinvolgere i ragazzi di questa età ma soprattutto perché a loro piaceva ritrovarsi insieme e è diventato anche uno stimolo per tanti altri genitori per far sentire la loro presenza e per coinvolgere a loro volta tante altre persone in questa manifestazione. Indubbiamente questo è molto positivo perché non è nata dal direttivo la festa ma al contrario è nata proprio dalla volontà dei genitori che chiamano trovarsi e che programmano insieme queste iniziative.